San Paolesi e Paci, una grande vittoria, avete fatto personalmente una grandissima impressione. Complimenti per i polmoni, li avete proprio sempre aggrediti, avete tolto la loro arma principale, quella del palleggio. Sì, 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 è stata una partita un po'... loro erano un po' rimaneggiati, contati, però ci siamo un po' rinforzati, è venuto anche questo ragazzo quest'anno a darci una mano, San Paolesi. Poi non era la prima volta che li affrontavamo, quindi sapevamo che il pressing alto era la soluzione vincente. Bisogna avere anche il fiato però per farlo. Sì, 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 ma fortunatamente siamo gli uomini. No, allenati, allenati ragazzi. Siete in grandissima crescita, mi sembra la quarta vittoria consecutiva. Sì, sì, un po' ti dico, grazie anche ai nuovi innesti perché eravamo un po' pochi, adesso abbiamo anche preso due o tre giocatori nuovi. Ormai secondi. Penso secondi, penso. La classifica va scalata. Com'erano gli obiettivi inizio stagione? No, era solo per divertirsi. L'Europa League, per esempio. Era per divertirsi così. A questo punto non ci sono limiti, no? Esatto. A questo punto puntiamo il mondiale per club. Ecco, ci spengono la luce. Un effetto. Al buio vi faccio complimenti ancora e buon proseguo. E salutiamo Fossa dei Cazzoni. A Fossa dei Cazzoni salutiamo. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao.